e con vincimento sta sostenendo la candidatura di Lino Rione a candidato a Sistema. Niente, perché mi sono candidato? Io ho iniziato il mio percorso politico già nel 2004 quando ho sostenuto Gianluca Gallo, non candidandomi, ho abbracciato i principi ideali, la voglia di fare di questo gruppo politico. Io nel 2009 sostanzialmente poi mi sono candidato, ho partecipato alle amministrative del 2009, ho ottenuto un successo discreto, non sono stato eletto, comunque ringrazio chi mi ha sostenuto soprattutto in questo territorio di cui faccio parte. Niente, sostanzialmente chi verrà dopo i mesi a far spiegarvi meglio che cosa è stato fatto nel corso di questi anni, soprattutto ringrazio la coalizione, questa coalizione che se poco prima di queste amministrative era all'opposizione, dopo che ha visto il buon governo, la stabilità, i principi di sviluppo, la concretezza dell'amministrazione uscente, si è abbracciata con convincimento, con forza, con serietà a sostenere la candidatura di Mimmo Lione a Sitaco, per continuare quel processo di costruzione di Cassano, per vederlo come comune capofila dell'Alto Ionio e Cosentino. Io per questo vi invito a fare proseliti, a convincere chi eventualmente fosse indeciso nei confronti di Mimmo Lione e di sostenerlo con forza e convincimento. Per questo vi chiedo una fiducia per me, candidato al consigliere comunale, ma soprattutto vi chiedo la fiducia a sostenere Mimmo Lione, candidato a Sitaco. Scusate per l'emozione. Grazie mille.